Poche parole e molta concretezza. Era questo invece l'approccio alla vita e al mestiere di Franco Riccomini, scrittore e giornalista nato a Pisa e scomparso nel 2014. Corrispondente per la RAI, firma di Paese Sera e apprezzata penna della nazione, Riccomini è stato un grande conoscitore dell'arte e della cultura pratese. A ritirare il gigliato d'argento con ferito postumo ci saranno i familiari. Il suo grande rammarico è stato quello di non nascere in questa città, perché lui ci è arrivato all'età di 11 anni, però se ne è sentito subito adottato. Quello che voglio dire è che siamo orgogliosi che un riconoscimento come il gigliato pratese sia dato a una persona che non è nata a Prato. Lui ne sarebbe molto, molto, molto orgoglioso.